Ciao ciao a tutti ragazzi, ho dei nuovi vestiti da mostrarvi questa volta da Zaffold e non vedo proprio l'ora di farveli vedere. Mi avete chiesto spesso e in tantissimi di fare dei video haul o di mostrarvi i miei outfit preferiti e quindi ho deciso di fare vari video haul con dei vestiti super di tendenza per l'autunno e inverno. Questo è il secondo video che faccio con Zaffold e devo dire che mi piacciono tantissimo le loro cose e ricordatevi che lascerò come sempre qui sotto nell'info box il link del sito e di tutte le cose che ho scelto e vi lascerò anche un codice sconto. Adesso possiamo incominciare con il video. Allora, questo maione secondo me è bellissimo perché innanzitutto è di una morbidezza incredibile. color panna a collo alto. Poi mi piacciono troppo queste maniche così, sono bellissime ed è anche comodissima. Ok ragazzi, poi ci sta questa maglia fantastica. Eccola qui, è troppo bella secondo me. Sempre a collo alto. Comunque è anche un po' stile e-girl con le strisce bianche e nere. Anche questa è molto morbida e mi piace tantissimo. Sicuramente la metterò un sacco di volte. Poi ci sta questo cardigan bellissimo. Con questi bottoni che sembrano delle perle. Tutto nero ed eccolo qui. Comunque mi piace troppo. Le perle veramente sono fantastiche. E anche questo è molto morbido. Ok ragazzi, poi ci sta questa gonna bellissima in tweed. Con questi bottoni dorati, è troppo bella. Stile Chanel. È fatta molto bene, mi piace davvero tantissimo. Molto elegante anche. Ok ragazzi, poi ci sta questa maglia. Sempre in bianco e nero. Eccola qui, è fantastica. Con queste balse. Mi piace troppo. Poi ha anche le strisce bianche ai bordi delle maniche. Il tessuto è molto morbido ed è anche molto molto comodo. Mi piace davvero troppo. Poi ragazzi, c'è questa gonna bellissima. Di finto camuscio. Con questi bottoni così. Molto bella. Tutta nera. È molto carina e sicuramente andrà con tutte le cose che ho preso. Poi ci sta quest'altra gonna. Ed è una gonna di jeans. È molto bella. Mi piace molto lo stile di questa gonna. È favolosa. Eppure questo andrà con tutto. Poi c'è questa felpa. Ed è una felpa tipo a forpa di gatto con anche le orecchie da gattino. È troppo kawaii, bellissima. È anche stile giapponese. Comunque mi piace troppo con questo nasino a cuore. E anche le tasche, una sola tasca gigante. Mi piace molto ed è anche molto molto comodo. Poi ragazzi ci sta questo coppotto fantastico. Viene pure con questa sciarpa a parte. Comunque mi piace troppo questa giacca. Sempre un po' stile Chanel. Con bianco e nero con questi patretti. Anche un po' grigli. È veramente bellissimo. Poi pure i bottoni sono un po' tipo pelosi, morbidi. È tutto foderato. Ed è anche molto... Cioè ti tiene al calduccio. Ed è troppo bello. È bellissimo e non vedo proprio l'ora di metterlo. Poi ci sta... Quest'altro cappottino. Questo sì che ci tiene caldo. E comunque sembra tipo... Non lo so... Il pelo di un orsacchiotto è troppo bello. Morbido morbido. È tutto foderato pure questo. È molto chic. Non lo so. Sembra anche tipo un barboncino. Non lo so. Comunque è troppo bello. E questo sicuramente esplode dalla voglia di indossarlo. E per finire ragazzi ci sono le ultime due cose. La prima cosa sono questi pantaloni troppo belli. Con questi quadretti con le righe bianche. Comunque poi ci sta anche questo fiocchetto. Fantastico. Mi piacciono davvero troppo. Poi ha pure le tasche. Non immaginate ragazzi quanto sono comodi. Sono forse i pantaloni più comodi che ho. E comunque sono proprio bellissimi. E poi come ultima cosa ci sta questa maglietta. Mi piace troppo. Con questi due occhi. Comunque questo qua è aperto. E questo chiuso. Quindi sta tipo facendo l'occhio vino. E mi piace davvero troppo. Ed è tutta bianca. Con solo questi due occhi. Troppo bello. E ragazzi spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video. E che vi siano piaciute le cose che ho scelto. Comunque ricordatevi che lascerò il link di tutte le cose che ho scelto. E anche il link del sito qui sotto nell'info box. Comunque ricordatevi di mettere. Tantissimi like se vi è piaciuto questo video. E di iscrivervi a questo canale. Ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao.